Ciao ragazzi, buon primo gennaio a tutti, buon 2020, buon inizio anno nuovo! Auguri a tutti! Come state oggi? Cosa avete mangiato di buono? Buona digestione a tutti! Io devo ancora digerire! Tu? No! Bravi! Cioè brava! Purtroppo Stefania è così, amici, è nulla, un piccolo video per salutarvi. Come state? Qui fa freddissimo, noi siamo a? Matera! A Matera, se qualcuno è qui dei dintorni, lo salutiamo, ciao! Salutiamo tutti! Un piccolo regalo per voi, una gift card che mi è arrivata oggi da Amazon, ve la regalo. Stefania la comunicherà per noi, non la metto a testo ma ve la dirà Stefania. Prego Stefania! K, Y, 5, V, no, sono di Venezia. Vai! H, X, W, R, 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 A, 4, R, B, R. Ok, il primo che riuscirà a inserirla su Amazon se la prende e ce lo dica nei commenti. Qui c'è un vento incredibile, noi rientriamo altrimenti ci ammaliamo. Che bella Stefania. Grazie. Ho il cappello! Io provo a fare un buono con il drone perché sto anche con il Mavic Mini. Non l'ho ancora utilizzato però è qui. Vi vogliamo bene amici, un bel like, un commento e una condivisione e ci vediamo domani forse o dopo domani, non lo so. Buon anno a tutti! E quali sono i vostri propositi per il nuovo anno? E poi quali sono? Ingrassare. Il mio? E ridere. Non lo so, vedremo. Ciao ragazzi! Ciao.